Ci sono stati dei momenti nella storia nei quali le parole della politica hanno avuto un peso particolarmente importante. Le parole funzionano in comunicazione politica quando esprimono un messaggio chiaro e coerente, sono il frutto di una strategia precisa e sono pronunciate con credibilità. Di questo parleremo nel nuovo corso online della scuola Holden, scrivere per la politica. Analizzeremo grandi discorsi, ci rifaremo alle lezioni dei grandi maestri della pubblicità e infine ci metteremo in gioco con esercitazioni pratiche e saremo noi a scrivere le parole della politica.